Ragazzi, come si è messi col fantabobo? Lasciamo stare la giornata del 6. Lasciamo stare anche quello di... Vi ho battuto il primo e il secondo, quindi... No, ma il 6 però, Nick, ci sono metà, metà, cioè metà... Sì, però sono messo bene, però questa qui, tre pappini ho fatto. Che cazzara che è questa. Sì, ma io non ci ho giocato, non ci ho giocato... Dice delle cazzarie. Cazzino. Ma scusami, sai, ci sono quattro partite non giocate, altri giocatori non hanno giocato, voi vuoi fare già... No, però... Antonio, io giocavo con Antonio, Antonio, l'Inter non ha giocato, lui c'ha gli attacchi dell'Inter, non si può giudicare la penultima partita. Lelio, io ho visto come... Soltanto che ho giocato con il tuo giocatore in meno l'ultima volta. Tutti fortunati, un casino! C'è un problema di centrocampo, Antonio, Vidal, Luis Alberto... Un casino, ma... I difensori, Cullivalino c'è, bonus fortunati... Mentre questa, oggi ci manca una partita che domani... Io ho quasi vinto, sono 75-61, però c'è da capire, non so se voi avete giocatori di Cagliari e Bologna. Io no. Io non ce l'ho più, 76 ho fatto, 3 gol, Singo, Scrigna. Vedi, questi sono parziali, sì. Ecco. Ok. Buona volta, tre pappine ho fatto pure oggi. Dopo a stravento. Ma io... Cosa gli manca, Antonio? Lui ha giocatori in meno, c'ho. No, no, perché Antonio, esatto. Non c'è speranza. Ne ha Gramadoro, mi salvo. Lele, tu vinci. Come, Max? Sì, perché lui chi aveva Dzeko, chi aveva Lautaro, sì, sì. Chi le manca a Gamarra Ciarua, che se vince Collino Banfi? Sai che mi ha scritto, ma sai che Campbell mi ha scritto a Gamarra, eh? Carlito? Carlos, perché due settimane fai schifo. Carlos, ma fai tu su Instagram perché non c'è il coso blu, no? Dopo due settimane risponde sì. Cioè, tu se le fai, dico, ma che fai, MMA? Mi dice, no, faccio... E basta. Vedi, con un voto in meno, c'ho, Vidal in meno. Sì, perché tu Vidal in meno, però c'è da capire anche la tua riserva, no? Non ce l'ha, non ce l'aveva. Ok. No, Basic l'ha preso. C'ho Basic. Ascolta, c'è da capire se era l'altra, Anto. Ah, ok, ok. Eh, c'è da capire quella. Ma la classifica giusta, però, non ce l'hai, no? Ma la classifica, come fai, la classifica? Secondo me, i giocatori più forti, c'è io. Sì. Ma come è 13? Ero già a 13. No, no, no. Ah, questa non l'hai messa. No, non è aggiornata, neanche questa. Ah, non è aggiornata. Sennò io vado qui. Ah, allora. Ah, le ultime due. E allora tira via, che ce ne facciamo? Sì, non è aggiornata. Fiamola bene come avanzo. Eh. Tira via. Bra, ti tirla via. Sì. E fa vedere, Anto, tu avevi, te lo dico subito, tu, Basic, l'avevi come riserva dell'altra partita, Anto. La prima riserva dell'altra, del 6. A questo giro qua, che ce l'ho, Bentancur, titolare, Luiz Alberto, che ce l'ho, Basic. Vidal. A questa partita c'hai, Luiz Alberto, Vidal, Bentancur, Froiler. Froiler ce lo metti sempre. Ah, Froiler è fuori, vero. Non ha giocato neanche un minuto. Ce lo metti sempre. No, no, bene, siamo a posto. Ma quando rifacciamo un'altra volta il mercato? Io ho bisogno di attaccanti perché Belotti non c'è. A proposito, questa è una buona domanda. Come quando si fa il mercato, Max? Ok, ok, allora, va bene, facciamolo però tipo dentro gennaio, che ne so, fine gennaio. La Carlona. Dopo la fine del calciomercato. Ma i giocatori più forti, io, tutti io. C'è un'altra partita. Il tuo principale centroavanti, oggi, uno dei difensori più forti della Serie A. Non l'ho mai ci ha fatto oggi. Mai, mai, mai. Bremer ha fatto il signore. Ha molto male la Fiorentina. Oggi ha fatto il signore. Glaison. Però ci sta, voglio dire. No, boh, boh, Terracciano, bene. Ho preso 4x. Guarda il voto di Terracciano, 1,5. Ma almeno ho preso 2,5. Io ho preso neanche un voto. Fraulele si è scordato. Vabbè. Ok, quando Bobo è a Dubai. Bobo lo fa da Dubai il mercato. Io anch'io voglio andare via in vacanza, Bobo. Lele, voglio andare anch'io. Decidete una cosa. Andateci dopo la rivinci. Dò prima, Kamer. Se no, là, metti su altri 5 kg. Non lo so. Prima giochiamo, poi parto. Andiamo. Ma quando vai che io devo andare. Andiamo a Dubai. Giochiamo mille partite. Ci rilassiamo un pochettino perché se no, ragazzi, veramente... Però io c'ho una squadra della madonna, io, eh. No, è camorosa. Ma anche Lukic hai, Kamer. Lukic. Pessina, Casale. Come faccio a perdere? Eh, come all'altro. C'è la roba. Zelinski. Gli attaccanti. C'era il Zapatone che ora rientra. Ragazzi, facciamo in bocca al lupo a Federico Chiesa. Mamma mia, anche te, ti ricco. Stava riprendendo piano piano, una brutta ammazzata adesso. Un abbraccio forte, anche perché ci mancherà anche con la nazionale a marzo, ma soprattutto di pronta guarigione, che faccia le cose con calma, per bene. Questa stagione la mettiamo da parte, eh? Sì. E torniamo più forti di prima. Crociato. Crociato anteriore. Sì, sì. Crociato anteriore. Quindi ci si ripresenta ad agosto più forti di prima. Eh, assolutamente. Un bocca al lupo grande. Un abbraccione a Federico.